Ciao e bentornati, prima di iniziare vi chiedo di aiutare questo canale mettendo un like, attivare la campanellina ed iscrivervi al canale. La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continua a essere oggetto di discussione. Secondo fonti ben informate, il conduttore di, Avanti un altro, sarebbe stato tradito dalla moglie con un collega molto stretto che scopriremo alla fine. Se sei affascinato, incuriosito o attratto dal nostro intrigante gossip, guarda cosa è successo in questi video. Nel corso degli anni, si sono accumulate delle incompatibilità caratteriali che hanno portato a un malessere nella coppia, come riportato dal giornalista Alberto Dandolo su D'Agospia. Recentemente, è emerso un dettaglio clamoroso riguardo alla presunta infedeltà di Sonia nei confronti di Paolo. Fabrizio Corona, tramite il suo canale Telegram, ha rivelato che quasi venti anni fa Paolo Bonolis è stato tradito dalla moglie con un collega molto stretto in modo molto evidente. Non è stato fatto il nome del collega, ma è stato evidenziato il disgusto nei confronti di questa nuova forma di politic corret. Ovviamente, si fa riferimento all'esclusiva che l'ex coppia ha rilasciato a Vanity Fear riguardo alla loro separazione. Non dimenticate di visitare il nostro canale per le ultime notizie e aggiornamenti su questo evento straordinario. Siamo grati per il vostro supporto, seguirci e lasciare un like al video ci incoraggerà a continuare a condividere informazioni importanti. Alla prossima!